L'inflazione, la crisi economica e il continuo rincaro dei prezzi non lasciano scampo nemmeno alle gitte scolastiche, diventate troppo care per gli studenti e le loro famiglie. Secondo le stime si parla di un aumento del 20% rispetto agli anni pre-pandemia. Cifre diventate ormai insostenibili e che portano come conseguenza alla rinuncia da parte di tante famiglie. In merito a questo i dirigenti scolastici esprimono la loro preoccupazione. Per alcuni viaggi siamo arrivati a quotazioni, viaggi anche brevi, a quotazioni anche di circa 700 euro, che evidentemente aggiunte alle ulteriori necessarie spese per affrontare il viaggio diventano cifre davvero importanti per tutte le famiglie. Abbiamo avuto circa una decina di richieste e di queste purtroppo meno della metà si sono state realizzate o si realizzeranno a causa anche di numerose difficoltà che stiamo trovando con le agenzie di viaggio. Una buona notizia arriva dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che mette a disposizione 50 milioni di euro per consentire alle scuole il coinvolgimento di tutti i giovani ai viaggi formativi. Speriamo di ripetere esperienze particolarmente qualificanti. Una da poco ha avuto ottimo successo, una a un viaggio di istruzione che era insieme un'esperienza di PCTO, cioè rappresentava la possibilità di effettuare dei percorsi appunto per le competenze trasversali orientamento in cui davvero gli studenti hanno acquisito nuove competenze. Altro aspetto da non sottovalutare è quello degli insegnanti che a causa delle troppe responsabilità mostrano sempre meno entusiasmo nell'accompagnare gli studenti. Forse in questo incide anche un mutato rapporto con le famiglie, che giustamente richiedono massima sicurezza per i propri figli. Grazie. Grazie.